Seconda sconfitta per il Marsala. Nella fase iniziale si era registrato un certo predominio territoriale che aveva sfruttato discretamente le fasce laterali ma senza concretizzare offensive di rilievo. Poi al 28esimo è arrivata all'improvviso la rete di Antonino Genovese, il quale, servito al limite dell'area del rigore, ha superato l'avversario e battuto con un secco tiro il portiere Barbello. La reazione del Raffadali non è tardata, tanto che al 35esimo una punizione di Privitera è stata deviata sul fondo con la punta delle dita da Ilario. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Randisi in mischi ha pareggiato da pochi passi. Poco prima del riposo, Ilario è stato impegnato seriamente due volte, al 43esimo su altra punizione dal limite di Privitera e al 43esimo su tiro ravvicinato di Galluzzo. Nella ripresa ha preso subito l'iniziativa il Raffadali, guadagnando due calci d'angolo consecutivi, su cui la difesa marsalese si è salvata con affanno. A questo punto il Marsale ha reagito andando vicino al gol. Al 55esimo con un tiro ravvicinato di Scilluffo, deviata a pugni uniti da Barbello. Al 61esimo, scattato in sospetta posizione di fuorigioco, comparata a ricevuto la palla, che, intercettato da Barbello in tuffo, gli è ritornata fra i piedi ma a porta vuota l'ha spedito oltre la traversa. Eseguite una certa tregua, fino al 74esimo, quando Scifo si è visto respingere dai lari un tiro quasi a botta sicura. L'azione è proseguita e Galluzzo è raddoppiato con un pallonetto dalla sinistra.